In questo fine 2020 stiamo assistendo alla ripresa del mercato azionario. Eppure, secondo le stime di Sirdan Capital, il settore delle commodities, in particolare quello dei metalli comuni, registrerà performance positive anche nel 2021. Ma prima di andare nel dettaglio facciamo un passo indietro e andiamo a vedere qual è l'andamento delle principali commodities in particolare di rame e oro, perché è su questi due metalli preziosi che ci concentreremo in questa Fast Finance. In particolare vediamo come il copper e quindi il rame, per l'appunto l'oro rosso, nel 2021 abbiamo arrotondato per eccesso, abbia guadagnato il 40% rispetto al 2019. In particolare nel mese di dicembre 3,45 dollari per libra, che è i massimi dal 2013, aggiornati peraltro a 3,50 dollari per libra, come detto, massimi negli ultimi sette anni. E poi oro nel 2020, il guadagno del gold, nonostante ultimamente abbia avuto una piccola depressione per quanto riguarda il prezzo, è comunque in positivo, più 20% rispetto all'anno precedente. Perché parlo di depressione del costo dell'oro? Perché dal 9 al 30 novembre ecco che c'è stato un calo di circa 100 dollari per oncia, meno 10% da 1950, raggiunto nel mese di novembre, a 1850 e poi siamo scivolati ancora più in basso. Bene, perché oro e rame avranno una tendenza positiva nel 2021? Perché mantenere una visione rialzista? Partiamo dal rame, partiamo dall'oro rosso, dal dottor Copper. Allora, il focus degli investimenti nel 2021, questa è l'idea e la stima di Sir Dan Capital, sarà quello dell'ESG, investimenti ESG e quindi energie rinnovabili. Inoltre, in Cina si è già registrato un aumento del 2% della domanda di rame. Questo ci porta a dire che anche in Europa e negli Stati Uniti ci sarà un aumento della domanda nei confronti del rame, che, per tornare alla questione delle energie rinnovabili, è uno dei migliori metalli conduttori di elettricità e calore. Sostanzialmente è un materiale essenziale per la produzione e la ristrutturazione delle reti energetiche sostenibili. Ecco perché la stima, ed eccoci qua alle stime, ci portano a pensare, porta Sir Dan Capital a ritenere che il 60% della domanda di rame del 2021 sarà impiegato per energia elettrica rinnovabile, che, come detto, è il focus degli investimenti 2021, uno dei principali focus. E poi questo porterà a un aumento della produzione di rame nel 2021 pari al 4,5%. Passiamo adesso a parlare del gold e quindi dell'oro. Per quanto riguarda l'oro abbiamo questa situazione. Partiamo da un virgolettato che è proprio quello di Antonio De Negri, che è founder e CEO di Sir Dan Capital. Dice questo sostanzialmente. L'oro, il gold, avrà sempre spazio nei portafogli degli investitori. E anche se al momento c'è un grande, c'è un gran focus sul mercato azionario, c'è una grande quantità di soldi investiti sull'azionario, gli investitori torneranno a comprare oro, sostanzialmente per effetto della diversificazione. Sostanzialmente di che cosa si parla in questo caso? Serve spazio nel portafogli degli investitori per il gold, che in qualche modo serve a proteggere gli investimenti che vengono fatti, anche se magari in questo momento sono più orientati appunto verso il value, verso il risk on. L'altro aspetto che approfondiamo, ed è l'altro cartello alle mie spalle, è quello relativo all'inflazione, alla protezione della svalutazione delle valute, alle materie prime e ai 1.700 dollari l'oncia. Sono quattro aspetti che adesso analizziamo. Allora, tendenzialmente si stima che quando l'inflazione cresce, e questo è il primo punto che abbiamo visto nel cartello, l'investitore si deve proteggere dalla svalutazione delle valute, e questo è il secondo punto appunto del cartello. E per fare ciò tende ad acquistare materie prime, tende ad acquistare commodities. È molto legato al discorso che abbiamo fatto prima sulla questione della diversificazione. Nello specifico, quali commodities? Nel mese di dicembre ha raggiunto i 1.700, poco più dei 1.700 dollari l'oncia, è un prezzo che non va venduto, sostanzialmente questo è il consiglio, va mantenuto in attesa che torni a salire, che torni a salire verso livelli più importanti. E questo ci porta all'ultimo cartello che ci fa vedere qual è il target per quanto riguarda l'oro nel 2021. Ed eccolo qui, 2.000 dollari l'oncia entro la fine del 2021. Questa è la previsione di Sir Dancapital, l'investitore dovrebbe dunque mantenere una visione di medio-lungo termine per riscontrarne i risultati positivi. Come detto, a 1.700 dollari l'oncia è un prezzo troppo basso per essere venduto, ma interessante per essere comprato. 1.700, ma anche 1.800, 1.860, sono in cui si trova a metà dicembre. Questa dunque è la prospettiva per quanto riguarda Sir Dancapital, per quanto riguarda il gold, mentre per quanto riguarda il rame, il copper, che è l'altra commodities che abbiamo approfondito in questo speciale, lo ribadiamo. Per il 2021 la previsione, la stima, è un aumento della produzione del 4,5% e con il prezzo, che al momento è a quota 3,45-3,5 dollari per libra, ai massimi del 2013 c'è ancora spazio per salire anche per quanto riguarda il metallo rosso, il rame.